salve a tutti ragazzi io sono squall e bentornati su opera omnia versione global oggi inizia anche il secondo anniversario della versione global e c'è davvero tanta carne a fuoco non vedo l'ora che esca a ranea per andare a pullare su di lei e andrò di gemme andrò al piti sicuramente su questo banner dopo la free multi andrò di ticket poiché mi interessa solamente la ex di eco tutte le altre armi ce l'ho già è un banner dove vado a ottenere molte molte power son mi sa e a me va benissimo ma prima di iniziare con questo direi di farci la multigatuita qua poiché non mi interessa nulla assolutamente nulla quindi iniziamo e cerchiamo di ottenere comunque qualcosina anche se dovesse uscirmi qualche ex qua non mi interessa non me ne faccio assolutamente nulla non mi interessano questi personaggi magari forse auron un futuro che diventa un attimino più forte ma neanche più di tanto momentaneamente non c'è nessun cambio certo se mi uscisse comunque qualche oro così da tramutarla poi effettivamente in power son non sarebbe male no ok una monoro va bene dai ci può stare ci può stare voglio molta più fortuna invece nell'altro banner questo qua con eco dove spero mi esca abbastanza velocemente la sua ex si vanno benissimo anche le altre armi per le power son comunque non vorrei sprecare tutti i miei ticket iniziamo con la free multi e poi passiamo i ticket come detto eco mi raccomando esca subito con la free multi così non spendo neanche i ticket sarebbe sarebbe il top ma non penso di avere tutta questa fortuna eco che naturalmente porterò a viola ragazzi tipo subito istantaneamente mi piace davvero tanto come la sua meccanica è semplice però è efficace niente monoro pure qua quindi adesso passiamo ai ticket anche perché comunque uno dei pochi personaggi support che riesce a curare che posseggo quindi sì eco davvero tanta roba anche perché ha ricevuto rework e i danni di fame a parere ticket ne abbiamo 576 abbiamo 290 mila gemme ma le gemme le lasciamo la che devono lievitare devono diventare tantissime devono superare le 300 mila unità sarebbe il top se superassero anche le 400 mila unità però con calma lasciamo le taglie evitare i ticket come sempre veri velocizzo e nulla auguratemi buona fortuna un pochettino Grazie a tutti. 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 Tanta tanta roba Eiko. Mi ha fatto finire il banner con meno di 100 ticket forse, giusto? Meno di 100 ticket. Ottimo. E ho anche ottenuto un bel po' di powerstone. Non male, non male. Eiko Viola. Top. A me va benissimo così, per me questi banner si possono chiudere qua perché, come detto, Lyle e Sephiroth già ce li ho completi. Di Eiko mi mancava, di Eiko mi mancava esclusivamente la sua ex, di Eiko mi mancava esclusivamente la sua ex e invece di questo banner, come detto, non mi interessa assolutamente nessuno. Non ricordo neanche se già ho la sua parte. rilasciata effettivamente qua nel global figuratevi quindi non ne ho la più pallida idea onestamente comunque non mi interessa più di tanto Maria non mi interessa e Jacket tanto meno Eiko davvero niente male mi è uscita con meno di 100 di Jacket il che significa che possiamo risparmiarci tutte le gemme per Aranea anche perché non credo di burlare per altri personaggi visto che comunque Golbez già ce l'ho e Ignis si so che è molto forte però la sua meccanica devo dire che è un attimino un po' meh non mi è piaciuta più di tanto quindi non credo di pullare per Ignis forse ci butto qualche ticket comunque ragazzi io vi auguro tantissima fortuna con le vostre pull e vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare condividere il video attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.